Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a vedere che cosa c'è nel mio astuccio, nel mio pencil case. Vediamo. C'è un righello. Ruler. C'è una colla. Glue. C'è un evidenziatore. Highlighter. Ci sono delle forbici. Scissors. C'è una penna. Pen. C'è una matita. Pencil. E infine c'è una gomma. Rubber. E nel vostro astuccio? Che cosa c'è? Ci vediamo alla prossima lezione. Goodbye.